Violavano il divieto di dimora a cui erano stati sottoposti e continuavano a recarsi nella loro abitazione di Posillipo. Per questo motivo i carabinieri hanno eseguito questa mattina un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Napoli su richiesta della procura partenopea nei confronti di due dei sette parcheggiatori abusivi colpiti il 7 aprile scorso dal divieto di dimora nel comune di Napoli con l'accusa di estorsione. I militari dell'arma che hanno continuato a monitorare il fenomeno e i movimenti dei destinatari dei provvedimenti hanno riscontrato che i due marito e moglie in più occasioni erano tornati nella loro abitazione di Posillipo. I arrestati sono stati condotti nelle carceri di Poggio Reale e Pozzuoli. Il figlio, che ha reagito violentemente all'intervento dei militari, è stato arrestato per violenza e resistenza ad un pubblico ufficiale.